Multa da 1000 euro e licenza sospesa per 15 giorni. Sono i provvedimenti adottati nei confronti di una tabaccaia fanese, sorpresa a vendere sigaretta ai minorenni nonostante il divieto e le nuove norme entrate in vigore da poco. E' accaduto durante il martedì grasso, quando gli agenti del commissariato di Fano, sotto la guida di Stefano Seretti, hanno notato che alcuni studenti, anziché affrettarsi ad andare a scuola, si soffermavano davanti a un tabacchi confabulando fra loro. In realtà stavano organizzando una colletta, l'acquirente aveva solo da pochi giorni compiuto 16 anni, gli altri giovani avevano un'età compresa fra i 14 e i 15 anni. Lui faceva da collettore per altri ragazzini e quindi raccoglieva i soldi e poi li distribuiva a tutti gli altri ragazzini che avevano conferito le quote, si ricava all'interno del tabaccaio, acquistava le sigarette, cosa che non può fare perché al di sotto i 18 anni è vietata la vendita appunto dei tabacchi, dei derivati e quindi poi distribuiva il pacchetto di sigarette, tutte le sigarette contenute a tutti quelli che gli avevano dato precedentemente i soldi. Per la sospensione della licenza bisognerà attendere l'ufficio dei monopoli di Stato per l'adozione del provvedimento, poi se il fatto dovesse ripetersi, a quel punto la titolare rischierebbe una multa che può raggiungere la somma di 8 mila euro e la revoca della licenza. Un altro dato allarmante, come ha sottolineato Seretti, è il fatto che sono sempre di più i giovanissimi che iniziano a fumare sigarette e ad assumere sostanze stupefacenti. Sì, questo grazie veramente alla sollecitazione del nostro questore che è molto attento a queste tematiche, ma noi lo facciamo soprattutto, ripeto, in senso preventivo, proprio perché abbiamo notato che ci sono molti adolescenti che usano anche droghe, anche a 13, 14, 15 anni. E quindi interveniamo un po' alla radice del problema, proprio all'inizio, quando iniziano a fumare le sigarette, il tabacco normale, che è prodromico poi all'utilizzo di sostanze più pesanti come l'alcol e le droghe stesse. Quindi cerchiamo di intervenire, ripeto, proprio alla radice dei fenomeni che ci preoccupano. Grazie a tutti.